buongiorno professoressa mi chiamo Ettore per me è un grandissimo onore essere che dici? che la senti di andare? no e quindi dico a Talmudovar che non vai? ma tu perché stai qua? ti faccio compagnia zio ma la tantezza ma che fai? amore siamo sposati ma non è che per caso stiamo andando a Davos al forum economico annuale devo fare pipì dai però ti stanno aspettando hai il provino è tra un'ora ne ho prese cinque ma come cinque ma sei matta zio allora tu vai col camio fino a Roma mi lasci a sette cammini dove ci sono gli studi tv di Maria De Filippi e io vengo amici certo io smetto di andare a puttana e allora papà andrà da sola non mangio pane da due mesi non bevo vino da tre mi sono iscritta in palestra Dario in palestra un giorno sì uno no e sai perché perché sapevo che sarebbe arrivato questo giorno indimenticabile vado adesso vado 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 devi cantare se no non mi viene nina nanna sei e venti la bambina e devo pisciare non non devo dormire eh forza io e te siamo come ben Gioffede ma sono quel pugno sei ingiusto non fare il cretino Dario per colpi se fai piano per favore piano tranquillo zio si va in scena contro la chiusezza io ti sparo una canzone arriva Giorgio maura attrappieni l'emozione d'ore mi fa sola sì io non ti volevo qui si la solfa mi redò Giorgia maura che la do ma non ha capito imprevisto una volta metticela una R se ci puoi intruppare con Giorina ma che c'è se puoi intruppare ma che sei scemo mi intruppo col pastore mu ma mami 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 non ce la faccio il primo amore che stiamo andando a seppellire è l'Italia io non riesco a uscire da questa macchina fuori c'è un mondo cattivo e tu ora io ho paura non puoi fare assolutamente nulla a parte uccidermi ti è piaciuta? no arriva Giorgio maura trattieni l'emozione